Perché le razze umane sono diverse? Perché si sono incarnate in tempi umani diversi e hanno perciò diversi gradi di sviluppo. Esiste così la razza che ha appena iniziato il suo percorso evolutivo e quella che ha già fatto gran parte del suo cammino e sarà la razza umana più giovane, incarnata cioè da meno tempo umano, quella che più facilmente sceglierà la violenza, mentre la razza più vecchia, pur essendovi al suo interno una grande varietà di evoluzioni, tenderà a reagire alle diseguaglianze sociali, cercando di essere portatrice di idee di maggiore giustizia.